L'odio a Didi L'odio a Didi Ciao bro Sono leggermente più bassa di te E andrò qui Didi Didi Aspè bro Non iniziare bro Bass Genesi con 20 euro Così neanche assoluta di web Buonasera come va 20 euro Così DD Didi torna all'attacco Un'altra 20 euro Didi sono due oggi Lo sai come sei Come ho intitolato la password dei miei server L'odio a Didi Dimmi come stai almeno Non lo so Dimmi qualcosa caro Didi Cazzo quello era da fare headshot No Didi Porca Aspetta Mi fai affogare Basta bro Faccia miseria Basta bro Io ti amo Ti adoro Non so che altro dirti Però E' veramente Veramente Basta così Ti ringrazio tantissimo Non serve altro Non serve Ecco Ti sei pure abbonato Più di questo Veramente Non so che dirti E' quindi No E' di fuori Senmei Ah 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 Non so che Ah 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 Basta bro Cioè porca d*** c'è un'altra 50 Ma tu che fai di lavoro Spacci dimmi che spacci Dimmi che non lo so Ma io non so come diglielo Fermati Aspetta Aspetta Dd tu sei consapevole che io questi soldi Non te li posso ridare Tu sei consapevole che io non te li posso ridare Questi soldi Porca d***a Non mi fa più donare ma basta Che altro devi donare a bro La vita che devi donare l'anima Facco te quel bambino Che fa il gassipo Simo devi fare più brevi questi messaggi Ah si può fare questa cosa Ci può fare Carina È carina Carina questa cosa Si può fare No 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 Oh cazzo Vuoi le fermo No No Dd porca d***a Porca d***a Dd che cazzo stai dicendo Ma che cazzo stai dicendo Ma che cazzo stai dicendo Porca d***a Ma che cazzo stai dicendo Ma che cazzo stai dicendo Ma che cazzo stai dicendo Porca d***a Ma che cazzo stai dicendo Ma che cazzo stai dicendo Ma che cazzo stai dicendo Dd ma sei serio Ma che cazzo stai dicendo Cosa cazzo stai dicendo Cosa cazzo stai dicendo Ma che 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 cazzo stai dicendo a dire che non va bene dopo che ho letto quella cifra la ma tu sei fuori di testo compasso con 500 euro ma sai quanti cazzo sono 500 euro il video ma gli devo fare una non è che gli devo fare il video che è solo di bestemmie che sto menando perché io non è il canale qua non è nulla di che non è nulla di che stai scherzando non è nulla di che il 500 non sparisce direi proprio di sì direi live fino a quando il 500 non sparisce pcvkev ti ringrazio veramente se vuoi farlo ma ovviamente non ce n'è bisogno ragazzi le donazioni lo sapete cioè è perché se lo può permettere se lo sente di fare io non so perché dd se la sia sentito di fare tutto questo ma ovviamente non posso far altro per ringraziarlo chi è che mi prende il cazzo già forse lo ho preso a fare questo minchia sarà ricordato per sempre su questo canale sì ragazzi mammo di dd se ci sei ancora se ci sei ancora mi confermi che il tuo nome è gabriel me lo confermi se ci sei ancora in live merda questo è per te dire questo è proprio per te dd se ci sei ancora questo è due kill te le dedico più di questo non so che fare più di impegnarmi non so che fare cioè nooo vpt fili dopo questa mi sparo mi sparo mi sparo ciao quello che spaventa le pecore ciao quello che spaventa le pecore buon cazzo ma s**tana s**tana Satana Ragazzi ragazzi non scherziamo Tu hai startato Luigi se scrivi in italiano ti posso pure rispondere bro Io ci arrivo Però non ci sono mai venuti in questo Corretto perché c'è stato abbastanza vicino dai Mo mi dispiace interrompere la partita Stanno a fare una bella partita Eccoli Sì ma cazzo fai tate Non è che dovete scappare Eh sta con roba Che fai Lo so Mirkos lo so Infatti per me vincitori sei le tue cosa Tu è il tuo compagno Vabbè ragazzi Quittiamo Minchia L'odia di di L'odia di di Ok direi che possiamo andare ragazzi Andiamo Vai 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 Via 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 via